Con il presidente della Feralpi Salò, commentiamo questa gara, una cremonese che ritrova la vittoria dopo tanti mesi all'Ozzini, purtroppo ai danni del Feralpi. Noi sapevamo di venire in un campo difficile, sappiamo perfettamente le ambizioni che ha la cremonese, per cui ovviamente una squadra giovane come la nostra a pagare un po' di inesperienza era abbastanza ovvio. Ma però ripeto, io sono abbastanza soddisfatto, il primo tempo abbiamo tenuto bene, poi abbiamo preso quel gol al 45esimo, col secondo gol a freddo subito all'inizio di ripresa, ci siamo un po' disuniti, abbiamo pagato sicuramente un po' di inesperienza e anche a livello psicologico il secondo gol preso così. Però se io guardo il primo tempo credo che siamo riusciti a tenere testa una grande squadra. Un ottimo portiere anche tra i pali, perché più volte ha detto no agli attaccanti grigiorossi. Sì, devo dire che ha fatto delle ottime parate, forse sul gol dell'1-0 doveva forse uscire un attimino, però devo dire che al portiere non c'è da dire niente.